Il grande iniziativa è per chi ha voluto questa iniziativa e chi ha lavorato allo Stato di Intenzione, quindi il grande iniziativa è per chi ha lavorato allo Stato di Intenzione e poi il Presidente Costo, il Presidente Costantino e il Presidente Costantino, Io posso soltanto esprimere una doppia felicità per questo evento. Grazie.